Fabrizio manca un pezzo alla tua chitarra. Si, manca la paletta superiore perché in realtà è una chitarra da viaggio ma io la uso più come tagliere per il salame, che viene benissimo. E poi in caso di rissa viene bene perché la impugni bene e la giri nella faccia alla gente. E giù chitarrate. Magari nell'occhio per quel piano. Meglio dei tacchi delle donne. Tanto chitarra che, siamo venuti a sapere, è colpa di una ragazza se tu suoni una chitarra. Sì, no, è colpa delle ragazze in generale. Le ragazze l'ho fatto perché io suonavo il piano quando avevo 12 anni e ho visto questa foto di me che suonavo il piano messo lì così con gli occhialini, ero così splendidamente angelico che ho pensato ma chi mai si tromberà sto ragazzo? Ma nessuno. E allora comprati una chitarra e cerca di fare qualcosa. Perché la chitarra fa più figo. Ma pensavo che il rock and roll come approccio, sai, quando sei lì. E com'è andata? Hai cuccato di più con la chitarra? Malissimo, però con la chitarra mi sono innamorato della chitarra. Ah, ok. Le ragazze vanno e vengono, le chitarre restano. Le chitarre restano, sì. Fabrizio, mentre studiavi, terminavi i tuoi studi in giurisprudenza, però poi la musica ha avuto il sopravvento. Non so se è stato l'arrivo della chitarra, l'uscita del tuo primo album. Ho fatto questa fortuna di fare un disco che è uscito in 13 nazioni, Sud America, ho fatto un po' la rock star in Sud America per tre mesi. Poi sono tornato in Italia e non avevo più un lavoro perché la mia casa discografia era scomparsa. E quindi sono andato poi in tribunale a fare l'avvocato. È stato un momento della mia vita veramente difficile che non amo ricordare. Però poi casualmente mi ha portato a fare il comico e ho fatto il comico per 15 anni e adesso sto ricominciando a fare il cantautore. Quindi farò dei dischi da cantautore. Ho fatto adesso un disco di Gigigno, lo dico perché siamo in televisione. Uno dei tuoi personaggi. Uno dei tuoi personaggi brasiliani. E quindi sì, è stata una carriera veramente molto difficile da prevedere che mi ha stupito dall'inizio alla fine. Ecco, questo è interessante. Sai che tu dici, parlavi di Gigigno, c'è Mirko, un altro personaggio. Esatto, farò un disco anche suo. Ma è denominato il personaggio? Tipo Mirko? L'hai visto? C'è una persona? No, in realtà Mirko per esempio, che è appunto l'adolescente sfaccendato, è successo che un giorno ero a Nashville e in un negozio di scherzi ho comprato una parrucca a 5 dollari. Me l'ho sommessa per scherzare e mi sono guardato allo specchio e assomigliavo tantissimo a Kurt Cobain. E tra l'altro poi però avevo questi due amici che erano adolescenti che erano completamente, proprio non avevano voglia di fare niente, parlavano così, c'è troppo uno sbattone, capito? E quindi ho messo insieme le due cose e per caso è venuta fuori quella cosa lì. E ha funzionato. È casuale. Grazie. Grazie.